Cari amici, buonasera, ci vediamo dopo un po' di tempo, perché ovviamente, dato che io sono appassionato di casi di cronaca, soprattutto quando nei cosiddetti casi più importanti non ci sono notizie importanti, utili, beh, allora, non è che si sta a fare video, perché la mia è solo una passione, ovviamente, non so qui come fanno quelli che fanno i youtuber commentando ogni giorno magari le squadre di calcio, le partite. Qui parliamo d'altro, ed oggi, oggi, la mia attenzione sta su un caso, su un caso che era un cold case, era un caso freddo, che in questo periodo sta giungendo a un dunque, è il caso, signori miei, di Serena Mollicone. Chi era Serena Mollicone? Era una ragazza, all'epoca, a 18 anni, era il primo giugno del 2001, di Arce, e questa ragazza, veramente una brava ragazza, una studentessa sulla quale nessun dubbio, nessun ombra si è mai posata, ebbene, viene ritrovata cadavere in un bosco, mani e piedi legati, con del fil di ferro, della casta assorbente, proprio in bocca, e un sacco di plastica sulla testa. Un omicidio inscenato, tipo, tipo quasi come se fosse qualcosa di mafia. In effetti, cosa, cosa era successo? Per tanti anni non si è saputo cosa era successo. Oggi, per questo delitto, sono indagati l'ex comandante dei carabinieri, Franco Mottola, con suo figlio, la moglie, un altro carabiniere, un altro che poi si è suicidato. Cosa succede? Succede che questa ragazza esce di casa, appunto, il primo giugno del 2001 e scompare. Poi viene ritrovato, e stranamente al funerale addirittura viene prelevato in diretta tv, viene prelevato durante la cerimonia funebre, il padre, il padre che, vedete, che poi era anche vedo con questo pover' uomo, perché la ragazza aveva perso già la mamma. E viene prelevato, poi si è saputo. Per un nulla, per delle firme che doveva mettere, quindi quasi a volere significare, attenzione, stiamo indagando su di te, stai attento, se fai qualcosa, se dici qualcosa. Poi, ancora più stranamente, venne indagato per alcuni anni, un casociere del posto, che, di nome Carmine Belli, che praticamente all'inizio disse che aveva visto la ragazza, ma sono queste testimonianze di coloro che sono un po' millantatori, cercano della notorietà e poi si trovano incastrati in qualcosa di più grande di loro stessi. E allora andò a finire sotto processo, ovviamente, poi alla fine non si trovò nulla. Ma la cosa più grave, signori miei, fu l'autopsia. L'autopsia che, all'epoca, attribuì la morte di questa ragazza ad asfissia, ovviamente con il sacco di plastica stretto in testa. il cerchio si chiudeva, ma in effetti la ragazza non era morta per quella, perché l'autopsia fu fatta male, nel senso fu fatta in cattiva fede, perché sul corpo della ragazza vi erano dei chiari segni di violenza, delle fratture evidentissime alla testa, testa fracassata. si taceva, si taceva. Poi, adesso, è stata, la povola, la salma è stata risumata, sono state fatte altre, altre indagini più approfondite. E cosa è venuto fuori, signori miei, che il principale sospettata è venuto ad essere quel frango Mottola, guandante dei carabinieri, con l'accusa di omicidio, di aver fracassato la testa a questa ragazza, sbattendola violentemente contro una porta della caserma, e poi di aver inscenato questa sparizione, questo macabro rituale di avvolgere il corpo col figlio di Ferro e di inscenare questa brutta vicenda. E perché si è ragionato tanto? perché il figlio di questo Mottola era implicato in un giro poco chiaro di traffico di droga, perlomeno così si dice. Così si dice. E la ragazza che aveva una storia con questo giovane, la voleva lasciare, evidentemente non ne poteva più di questa situazione, e ahimè, pensò bene, ma forse pensò male, di andare proprio dal padre a prover fare denuncia, denunciare, eccetera. il padre, figuriamoci il pericolo di avere questo scandalo, e è successo quello che appunto adesso si andrà a processo a chiarire. E c'è stato in tutto ciò anche, purtroppo, la morte, il suicidio di Santino Tuzzi, questo maresciallo, per un peso troppo grande, anche perché egli era sottoposto a delle pressioni fortissime, perché poi è stato accertato che all'epoca, all'epoca si andò a cercare nel registro delle presenze, perché lui annotava che entrava e che usciva dalla caserma, egli aveva annotato proprio che in quella mattina la ragazza era entrata nella caserma per parlare con Franco Mottola e da lì non era uscita più, non era uscita più. E quel nome, quel nome poi sul registro era stato successivamente a malapena cancellato, ma evidentemente si vedevano i segni della cancellatura. quindi questo povero carabinire, sottoposto evidentemente a minacce, a pressione, a problemi anche, magari sui, di rimorso, problemi psicologici, alla fine, alla fine si suicidò. quindi, vedete, questa è una storia che io a suo tempo già seguì, a suo tempo seguì, e che però poi, col passato del tempo, vai a dimenticare, perché, ecco, i tempi della giustizia sono lunghi, ma poi ci sono delle reticenze, ci sono persone che nascondono, che ingannano, e quindi, già i tempi normalmente, per un processo, fino alla rastrazione, sono di 5, 6, 7 anni. In questo caso qua, gli anni ne sono già passati 16, per arrivare, per arrivare a un'ipotesi, un'ipotesi che, effettivamente, sembra quella definitiva, perché le perizie ormai parlano chiaro, alcune ombre sono state fugate, e, finalmente, può darsi che questa ragazza possa trovare giustizia. Certo, nessuno gli darà più questa ragazza, né alla sua famiglia, ai suoi amici, però vedete, a volte, è importante scoprire la verità, anche dopo diversi anni, perché si ha il senso che esista una giustizia, che questa giustizia vada a colpire anche in alto, anche persone che non onorano la divisa che portano, perché noi dobbiamo dire sempre grazie ai carabinieri, alla polizia, che ci tutelano, che sorvegliano le nostre strade, eccetera, eccetera, ma, ovviamente come come in tutti i posti, in tutti i luoghi, se ci sta qualcuno che non onora la divisa, certamente non va protetto in nessun modo, e quindi la giustizia trionfa sempre e dobbiamo avere fiducia che questo avvenga. Quindi, per questo caso che adesso si va a definire, noi ci risentiremo come ci risentiremo per vari sviluppi come ci sarà poi per la cassazione del Bossetti, per altri sviluppi, magari se ci saranno sull'omicidio di Genna del Gaudio che anche là si sta in un limbo, in uno scacco che non se ne esce, non si sta effettivamente come proseguire nelle indagini, quindi staremo un po' a vedere, io cercherò di tenermi informati, di tenervi informati. Per il momento quindi è tutto, un caro saluto e grazie a tutti coloro che mi seguono a rivederci, ciao! ciao!